Nasi illustra l'interrogazione numero milleottantuno concernente le iniziative normative in materia edilizia, con particolare riguardo alla regolarizzazione delle piccole difformità. A disposizione tre minuti, senatrice. Grazie. Grazie, Presidente. Ministro. I temi della casa, dell'edilizia e dell'emergenza abitativa sono argomenti che hanno assunto nel tempo un'importanza significativa per il Paese. Moltissimi sono i cittadini che tentano da anni di porre rimedio a situazioni di leggera irregolarità del proprio immobile, spesso viziato da difformità edilizie lievi e non sostanziali, attendendo da troppo tempo risposte certe. Spesso si tratta di difformità sul proprio immobile di cui gli stessi proprietari sono incolpevoli se non addirittura ignari, soprattutto per gli immobili edificati da altri soggetti magari prima degli anni settanta. E si tratta di situazioni che non costituiscono un abuso edilizio, ma piuttosto lievi difformità che non creano problemi alla sicurezza o alla stabilità dell'immobile né tantomeno impattano sull'ambiente circostante. E tali difformità che certamente potevano essere sanate all'epoca della realizzazione dell'immobile non sono sanabili oggi a causa della doppia conformità prevista dal vigente testo unico per l'edilizia, che appunto non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in senatoria per moltissimi casi. Questa situazione ovviamente comporta un consistente, anche un consistente aggrave amministrativo a carico degli uffici delle amministrazioni comunali competenti che a causa della frammentarietà della disciplina di settore non riescono a fornire risposte in tempi certi alle richieste di accertamento dello stato regittimo dell'immobile, limitandone quindi la commerciabilità, ma non solo, spesso condizionando anche l'esecuzione di interventi di semplice manutenzione ordinaria o di messa in sicurezza o di efficientamento energetico degli edifici. Quindi le chiedo quale iniziativa intende adottare al fine di adeguare la normativa in maniera di inizio alle attuali esigenze degli operatori del settore e risolvere quindi il problema delle piccole difformità del patrimonio immobiliare che non impattano sulla sicurezza dei cittadini e continuano invece a intasare l'attività degli uffici comunali nonché a paralizzare il mercato immobiliare. Grazie Senatrice. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. Ringrazio la Senatrice Minasi della Lega perché mi permette di dare risposta a quest'Aula ovviamente e a chi è a casa nello stesso tempo perché il tema casa e le difformità interne alle quattro mura domestiche riguarda, secondo la stima dell'Ordine degli Ingegneri, ben più della metà delle case degli italiani. Il nostro obiettivo è salvare queste case, a differenza dell'Europa che vorrebbe tassare queste case, da una normativa frammentata andando a regolamentare tutto quello che c'è all'interno delle mura domestiche, la cameretta per il secondo figlio, l'antibagno, l'anticamera, il soppalco, la veranda, la finestra di 20 centimetri spostata rispetto alla piantina originaria di quant'anni prima. Noi viviamo tutti in condomini, in abitazioni, in abitazioni singole, case che hanno subito ristrutturazioni negli anni a carico dei precedenti proprietari, del nonno, del genitore, dell'eredità. L'obiettivo di oggi, come abbiamo illustrato a tutti gli operatori dopo numerose riunioni sul piano casa, è di arrivare entro la fine di maggio all'esame di quest'Aula del Parlamento con alcune modifiche che riguardano, ripeto, non gli abusi esterni, ma tutto quello che c'è all'interno delle quattro mura. Diformità formali legate alle incertezze interpretative che per tanti immobili bloccano la possibilità di vendere o comprare casa. Diformità edilizie interne alle case, ovvero quelle modifiche derivanti da manutenzione ordinaria o straordinaria che attengono alla disciplina delle toleranze costruttive di cui aumenteremo la percentuale. Diformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione, ma non più sanabili oggi a causa della disciplina della doppia conformità. Stiamo inoltre intervenendo sulla possibilità di ampliare i cambi di destinazione d'uso per rendere più agevole le variazioni di utilizzo di una unità immobiliare o di un immobile. Tutto questo per liberare gli uffici comunali da milioni di pratiche, per incassare quello che i cittadini vogliono poter pagare pur di ritornare totalmente padroni del loro bene. Si tratta nel complesso quindi non di un condono per chi ha costruito la villa in riva al mare, lungo il fiume, in aree protette architettonicamente o idrogeologicamente pericolose. Se uno ha la cameretta per il secondo figlio ereditata dal nonno o dal genitore, penso che sia più utile che paghi al comune una quantità di denaro per poter tornare tranquillamente in possesso della propria abitazione con l'obiettivo finale di abbassare il costo degli affitti. Perché se tu riporti sul mercato milioni di immobili che oggi sono bloccati fai un buon servizio alla pubblica amministrazione e arrivi ad abbassare il costo degli affitti soprattutto nelle grandi città. L'impegno è entro maggio che questo che è un lavoro che stiamo portando avanti da un anno e mezzo, unico governo che se ne è fatto carico, diventi realtà. Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Minasi a disposizione due minuti. Grazie Ministro per la sua puntuale risposta. Sappiamo quanto questo tema relativo al patrimonio immobiliare sia importantissimo per il nostro Paese perché l'Italia ha un immenso patrimonio immobiliare di proprietà dei cittadini e il cui valore nel 2022 ammontava a 5 miliardi di euro che sono quasi tre volte il nostro pil. Oggi il 70% delle famiglie vive in una casa di proprietà e si trova spesso ad affrontare questi problemi che le normative attuali e la burocrazia dall'altro non aiutano a risolvere. Piccoli problemi come lei ha detto che non costituiscono abusi edilizi ma hanno pesanti conseguenze se non li permettiamo di regolarizzare sulla commerciabilità dell'immobile sulla loro fruibilità e anche sugli uffici amministrativi. Quindi crediamo che questa sua politica di sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure sia senz'altro la soluzione da seguire. Significa dare fiato all'edilizia, al settore immobiliare, aiutare le famiglie anche perché no ad alleggerirsi da pensieri ed ansie appunto legati a queste regolarità e significa rendere più fruibile il mercato immobiliare. Sempre nel rispetto massimo della sicurezza e della legalità che sono contrastate dall'opposizione unicamente sulla base di pregiudizi ideologici che certamente non sono nell'interesse della collettività. Quindi grazie ancora per il suo impegno e per questo lavoro condotto peraltro sulla base dell'ascolto degli operatori di settore e quindi certamente centrato sulle migliori soluzioni possibili. Grazie senatrice. Senatore Sigismondi illustra l'interrogazione numero 1083 concernente le prospettive in materia di transizione ecologica nel settore dei trasporti. A disposizione tre minuti senatore. Grazie presidente. Signor Ministro, dall'11 al 13 aprile si è tenuto a Milano nella sede di Palazzo Reale la riunione dei ministri del G7 Trasporti preseduta dall'Italia. Qui hanno partecipato oltre all'Unione Europea rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti le delegazioni dei ministeri di infrastrutture e trasporti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Il vertice che si è tenuto nel capologo Lombardo è stata anche l'occasione per carire e comprendere le modalità con cui le nazioni del G7, alla luce della crescente instabilità globale, intendono affrontare le sfide del futuro della mobilità. Segnatamente l'attenzione è stata posta sull'esigenza di rafforzare i sistemi di trasporto in caso di eventi estremi e imprevisti, come ad esempio le crescenti tensioni geopolitiche, il cambiamento climatico o gli attacchi informatici creando e rafforzando strumenti di coordinamento e cooperazione a livello del G7. Tra i temi affrontati, l'adeguamento del settore dell'automotive alle criticità ambientali è stato oggetto di un profondo e prolungato confronto tra i partecipanti, culminato nell'unanime consapevolezza di non poter considerare come unica soluzione al problema, la trasformazione in elettrico degli attuali veicoli a motore pubblici e privati, ritenendo per contro necessario concentrarsi sullo sviluppo di biocarburanti capaci di salvare le filiere del motore endotermico. Con la presente interrogazione si chiede di sapere quali iniziative, in seguito a quanto emerso dalla riunione dei ministri del G7 Trasporti, intende porre in essere per conseguire il passaggio da una transizione ambientale semplicemente ideologica ad una pragmatica ed economicamente sostenibile. Grazie Senatore. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. Ringrazio il collega Gismondi. Sì, sono orgoglioso che grazie a questo Governo Milano e l'Italia siano stati per tre giorni all'attenzione del mondo sulle politiche di trasporto per una transizione ecologica e non ideologica che non passi dal tutto subito solo elettrico, che sarebbe solo un enorme regalo alla Cina. Noi rischiamo di passare dalla dipendenza del gas russo alla dipendenza dall'elettrico cinese. Dobbiamo superare questa follia che non ha nessun senso ambientale e economico. La dichiarazione finale approvata da tutti i ministri del G7, peraltro, parla proprio di neutralità tecnologica, quindi superando l'ideologia imposta dai Timmermans e dalla sinistra al Parlamento europeo in Commissione europea. È un testo che getta le basi per un G7 che guarda al futuro con serenità e con pragmatismo. L'obiettivo, abbiamo parlato anche dei pirati del Mar Rosso, è quello di creare strumenti di coordinamento e cooperazione a livello G7 che siano in grado di aumentare il livello di preparazione e risposta alle crisi e agli shock internazionali. Ovviamente il mio auspicio e quello su cui lavoreremo come governo e come comunità è che per ricostruire una rete infrastrutturale, penso all'Ucraina, occorre un periodo di pace, perché ricostruire con delle guerre in corso è assolutamente complicato, quindi mi auguro che tutti coloro che hanno responsabilità di governo tornino a costruire ipotesi e percorsi di pace e non preparino nuove guerre. Evidenzio tre elementi cruciali nella conclusione del G7 di cui lei accennava. La neutralità tecnologica, dicevo, anche elettrico, non solo elettrico, ma anche biocarburanti, carburanti sintetici. L'Italia è l'avanguarda per la produzione di biocarburanti grazie alle nostre imprese agricole. Mettere fuori norma, fuori mercato dal 2035, le auto o le moto a diesel e a benzina è una follia priva di qualsiasi senso. Il ruolo centrale dell'industria che va coinvolta nella transizione e l'importanza di seguire un approccio globale in settori come anche il marittimo e l'aviazione, perché la decarbonizzazione non può essere pagata esclusivamente dagli imprese e dai cittadini. Come ha detto il Ministro Giorgetti, chi paga? Non puoi imporre una nuova tassa sulla casa e il cambio della macchina. Poi in alcune città, per detetere da milanese, evitare l'ingresso ad alcune migliaia di motociclisti è assolutamente un controsenso, perché io ringrazio chi usa le due ruote che serve a snellire il traffico e a inquinare di meno. In sostanza un G7 che finalmente, partendo da Milano e dall'Italia, con politiche di buonsenso e non ideologiche, pensa a un futuro e a un ambiente più pulito, pensa alla decarbonizzazione. Il mio obiettivo però da Vicepresidente del Consiglio è avere un'Italia sicuramente più green, ma non totalmente disoccupata, perché sarebbe il fallimento. Grazie Ministro. Intervieni in replica. Senatore Sigismondi a disposizione. Due minuti. Grazie Signor Ministro per la sua risposta, perché oltre a evidenziare le risultanze del G7, evidenza una posizione ben chiara da parte del Governo ed è quella di perseguire la transizione energetica, ma nel contempo riuscire a tutelare le filiere economiche. Ed è questo un risultato importante, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda i biocarburanti che potrebbero portare a quella neutralità tecnologica, capace di tutelare l'ambiente, ma contestualmente senza avere ripercussioni economiche e anche occupazionali. Crediamo in un sviluppo sostenibile, che sia in grado di trovare un nuovo equilibrio tra natura e uomo. La sostenibilità non può ridursi a una mera dichiarazione di intenti. Per questo c'è la necessità di affiancare alla sostenibilità ambientale anche quella economica, come lei ha ricordato quest'oggi in Aula. La sfida che ci attende nel futuro è proprio quella di far coesistere la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica con l'esigenza della società di innovarsi e del tessuto economico di continuare ad investire e creare occupazione nella nostra nazione. Ed è per questo che sono soddisfatto della risposta. Grazie Ministro. Grazie Senatore. Senatore Damiani illustra l'interrogazione numero 1080 concernente le misure di valorizzazione del settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. A disposizione tre minuti. Grazie.